Riccardo Faietti, Presidente di Forum Terzo Settore, il volontariato a Reggio Emilia è una risorsa davvero importante, quindi l'essere coinvolto in questo progetto è davvero innovativo. Sì, ringraziamo l'amministrazione comunale perché attraverso questo progetto ancora una volta cerchiamo di ridare voce a un mondo che è grandissimo, amplissimo, che gestisce servizi, promuove attività, sostegno alle persone e quindi c'è bisogno di farlo conoscere, bisogno di far capire ai cittadini che è importante inserirsi e dare il proprio tempo per questo tipo di attività. Reggio Emilia è una fotografia proprio sintetica del volontariato Reggio Emilia, Reggio Emilia è una delle città che ha costruito molto sul volontariato. Reggio Emilia è una città patria fondativa dell'associazionismo, della cooperazione e quindi è una città che nel corso degli anni oggi ha portato questo territorio ad avere oltre mille organizzazioni di volontariato, tra cooperative, associazioni di promozione sociale e quant'altro e a stime assolutamente spannometriche oltre a 20-25 mila volontari.